Alcune figure professionali prevedono l'esercizio della loro professione nei momenti di esposizione al pubblico. Sono politici che devono convincere, figure apicali di istituzioni, sono imprenditori, insomma sono persone che devono dar ragione della propria esistenza, che devono comunicare i propri progetti, i propri obiettivi, le loro proposte per il benessere della comunità. Ebbene, queste figure si appoggiano a dei professionisti del settore, i speechwriter, che devono veicolare quanto più possibile questo messaggio, questo appello, dall'oratore alla comunità di riferimento. Lo speechwriter è una persona sicuramente abile nella scrittura, è una persona che deve affinarsi in molte tecniche che riguardano la neurolinguistica, la sociologia del linguaggio, deve avere l'umiltà di capire quali sono le caratteristiche del suo committente ma anche del pubblico di riferimento. Non c'è una formazione specifica per lo speechwriter, è questione di esperienza, ma questo corso aiuterà a trovare alcuni spunti molto utili per fare un percorso adeguato per mettere realmente in relazione, in comunicazione, chi parla e chi ascolta. Sono Annalisa Bellocchi, sono giornalista professionista ormai da tanti anni, ho sempre applicato la professione in ambito culturale oppure come speechwriter. Credo che le parole sappiano comunicare dei contenuti, ma anche i contenuti hanno bisogno del loro packaging.